L'atto di compravendita del camping traiano tra l'Arsial e la società campeggiatori Pineta e la Frasca è legittimo. L'ho stabilito il Tribunale di Civitavecchia. Pronto il ricorso. Quattro anni di concessione della banchina 25 del Terminal Bramante per la Roma. Cruise Terminal, lo ha deciso il Comitato di gestione dell'autorità portuale nella seduta di ieri. La pandemia da Covid-19 porta con sé un aumento della povertà, numeri da record superiori a quelli della grande crisi economica del 2008, ma la rete della solidarietà tiene. Meno di 300.000 somministrazioni a raggiungimento di 5 milioni di vaccinati nel Lazio. Arrivati i primi sms per il certificato vaccinale. Possibili errori affermano dalla Pisana. NLNC ed un passo dalla salvezza. In caso di successo, nella partita di domani alle 15 nella vasca della Reiki, i rosso celesti festeggerebbero la permanenza in A2. In caso di KO, sabato al Palagalli si gioca la bella. Buonasera dalla TRC Giornale. Era assolutamente legittima la vendita del camping La Frasca. Lo ha sancito il Tribunale di Civitavecchia, che ha quindi riconosciuto l'assoluta validità dell'atto di compravendita, sottoscritto tra l'Arsial, l'azienda per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio e della Campeggiatori Pineta La Frasca, SRL, la società che aveva acquisito nel 2015 le aree e le strutture del camping. Si chiude così una vicenda che tanto ha fatto discutere, anche e soprattutto in chiave politica, il servizio. L'atto di compravendita stipulato tra Arsial, l'azienda per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio e Società Campeggiatori Pineta La Frasca, quest'ultima attuale proprietaria del compendio immobiliare dove sorge l'omonimo camping, è valido. Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia, che con la sentenza emessa lo scorso 16 giugno ha respinto la domanda proposta dal Tribunale di Civitavecchia, secondo il quale la compravendita avvenuta nel 2015 era da definirsi nulla. Si tratta di un risultato importante il commento della società, con il quale è stata definita una vicenda che da quasi quattro anni ha avuto gravi ripercussioni per la Campeggiatori Pineta La Frasca, sia in termini di immagine sia in termini di investimenti perduti. Nel corso di questi quasi quattro anni di controversie giudiziarie abbiamo sempre riposto la nostra più totale fiducia nell'operato della magistratura, che con la decisione dei giorni scorsi ha confermato la legittimità dell'operato della nostra società. Resta ovviamente il fatto che a subire gli effetti negativi dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'amministrazione comunale è stata l'intera comunità locale che ha visto inevitabilmente frustrate nuove occasioni turistiche. La società che ha già calendarizzato l'avvio dei lavori di ristrutturazione della struttura turistica valuterà comunque eventuali iniziative per il ristoro dei pregiudizi subiti. Si tratta di un nuovo capitolo della vicenda del camping traiano, più conosciuto come il campeggio della frasca, esplosa nel 2015, è tornata di attualità nei mesi scorsi quando l'associazione Caponnetto aveva portato all'attenzione della collettività la messa in vendita del camping al costo di 5 milioni e 600 mila euro da parte della società campeggiatori Pineta La Frasca, nonostante fosse in corso al Tribunale di Cività Vecchia un procedimento per chiarire la reale legittimità della vendita avvenuta nel 2015 da parte dell'Arsial. La sentenza dei giorni scorsi va in un verso, almeno in primo grado. Dall'associazione Caponnetto fanno sapere che in attesa che il comune si pronunci è pronto a presentare ricorso in appello. È in discussione in Commissione Urbanistica il progetto di riqualificazione della frasca presentato dall'autorità portuale sui tre chilometri circa di costa che interesserebbero importantissimi ritrovamenti archeologici e monumentali. La delibera sarà discussa prossimamente in consiglio comunale per acquisire la variante a verde speciale che consente la fruibilità per tutte le attività tradizionali legate a quel tratto di litorale tanto amato dai civita vecchiesi. Vogliamo fare della frasca anche un punto di attrazione turistica, ferma il gruppo consigliare del Partito Democratico. Non sarà dunque un santuario inaccessibile ma un parco con le dovute regole comportamentali e la cura che ne consegue. Ma questo dovrà essere meglio definito dal bando successivo all'approvazione della delibera e che potrà dare posti di lavoro finalmente non legati ad attività che penalizzano l'ambiente. Prenunciando il nostro convinto sostegno all'atto che sarà prossimamente all'attenzione del Consiglio Comunale ringraziamo il Presidente Pino Musolino e tutti coloro che da Molo Vespucci hanno profuso energie ed idee. È stato effettuato oggi all'Istituto di Medicina Legale di Roma l'esame autoptico sul cadavere di Giuseppe Maggi, il camionista 55enne di Ferentino morto carbonizzato venerdì scorso sulla 12 nel tratto compreso tra Civitavecchia Nord e Tarquinia. Difficile che dall'autopsia disposta dalla magistratura possano comunque emergere elementi di particolare novità nell'inchiesta attesa ad accertare le cause del terribile incidente. Potrebbero viceversa risultare determinanti i rilievi di carattere tecnico sul mezzo uscito di strada che sono attualmente in corso. Al termine dell'esame autoptico la salma dello sfortunato camionista è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali. Quattro anni di concessione quanto approvato ieri dal comitato di gestione dell'autorità portuale a favore della Roma Cruise Terminal. Si tratta del tempo necessario per costruire una nuova stazione di accoglienza dei croceristi alla banchina 25 del porto e per risolvere definitivamente un problema che aveva portato nel marzo scorso al sequestro preventivo del Terminal Bramante. A riguardo vediamo il nostro servizio. Quattro anni è il tempo fissato dalla concessione demaniale alla Roma Cruise Terminal per l'utilizzo della banchina 25 del Terminal Bramante che il comitato di gestione dell'autorità portuale ha approvato nel corso della seduta svoltasi ieri. Era uno dei primi impegni che nel marzo scorso si era assunto all'organismo nei primi giorni del suo insediamento all'indomani del sequestro preventivo e del successivo di sequestro del Terminal da parte della magistratura locale che aveva contestato una situazione di perdurante regime di prorogazio. Quello che può definirsi il Consiglio di amministrazione dell'autority ha deliberato che la Terminal sia nuovamente dato in concessione alla RCT per il periodo massimo di quattro anni entro cui la Società delle Crociere si è impegnata a realizzare la seconda stazione marittima croceristica sull'antemurale con la traslazione dell'attuale Terminal Bramante. Abbiamo sanato, dichiara il presidente dell'ente Pino Musolino, nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo attraverso una soluzione che contempera l'interesse preeminente della corretta destinazione e l'utilizzo dei beni pubblici con quelli degli operatori e investitori soprattutto in questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico croceristico che è stato quello maggiormente danneggiato dal Covid. Il Comitato ha poi approvato tra l'altro la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al 2021, oltre al diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori, croceristi e lavoratori portuali nell'area nord dello Scalo. La crisi occupazionale della nostra città si acuisce ogni minuto di più. Il grido d'allarme arriva da Potere al Popolo che parla del presidio degli operai della Minosse e dei dipendenti di PAS e delle vertenze cittadine. In particolare Potere al Popolo parla di situazione intollerabile per quanto riguarda i lavoratori di Minosse, di carenza di organico insostenibile per quanto riguarda PAS. Quello che ci stupisce enormemente, concludono, è l'immobilismo delle istituzioni locali e della politica cittadina. Quello che è accaduto ieri durante l'incontro con il presidente della DSP è inaccettabile, lo afferma il funzionario regionale della Will Tux Will, Stefano Rosignoli, in merito al sit-in dei lavoratori della PAS e dall'incontro di ieri all'autorità portuale. Tutti devono contribuire al risanamento della Port Authority Security, prosegue Rosignoli, e fare in modo che rimanga una società in house, ma se si continuano a togliere servizi si abbia almeno la compiacenza di non considerare la stessa imperdita economica. Per ben due volte è stato silenziato il microfono della Will Tux per non farci mettere in evidenza che il risparmio ed il risanamento di una società non si può ottenere a discapito della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Siamo stati invitati dal presidente a fare un esposto alla procura della Repubblica, prendiamo le sue provocazioni come consiglio e faremo le nostre valutazioni. Ieri presso la sede della CGL si sono incontrate le aziende cooperative Sant'Agostino e Consorzio Tedeschi e le organizzazioni sindacali Filcams CGL e USB. Le parti hanno sottoscritto un accordo di massima per permettere l'apertura dal 1 luglio dei bagni della Ficoncella, facendo assumere con la formula del contratto a tempo determinato con distacco dalla cooperativa Sant'Agostino al Consorzio Tedeschi, che attualmente detiene il contratto di appalto per le pulizie del comune di Civitavecchia. Cinque lavoratrici fino alla giudicazione definitiva del nuovo bando di gara per la gestione del sito. L'accordo prevede poi per tutti i lavoratori e venti diritto il passaggio alle dipendenze della ditta vincitrice del bando di gara, che prevederà anche il mantenimento delle clausole sociali previste dall'accordo tra organizzazioni sindacali ed amministrazione comunale. Civitavecchia non fa eccezioni, anzi, come sta avvenendo nel resto del paese e anche in città, la pandemia ha fatto ulteriormente aumentare il numero delle famiglie in difficoltà. Sono in tanti a rivolgersi alla Caritas e ad altre associazioni che nel territorio offrono sostegno alle persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. La rete della solidarietà tiene, anche se c'è timore per ciò che potrà avvenire al momento del ripristino dei licenziamenti. Vediamo. Un numero impressionante, superiore a quello già alto, che si determinò dopo la grande depressione del 2008. La pandemia da Covid-19, oltre ai lutti e al dolore, porta in eredità un notevole aumento della povertà, anche a Civitavecchia. Sono diventate davvero tante le persone che si rivolgono alle diverse associazioni che forniscono assistenza. Un'ulteriore conferma al riguardo arriva da Stefania Milioni, vice direttrice della Caritas territoriale, che parla di situazione oggettivamente difficile, che non trova riscontri nel passato più o meno recente. Fortunatamente, però, la rete di solidarietà messa in piedi all'indomani dell'insorgere della pandemia regge e riesce a far fronte all'incredibile mole di richieste e di aiuto, grazie soprattutto alle diverse aziende locali, che stanno continuando a fornire un sostegno reale. Caritas, comunità di Sant'Egidio, Protezione Civile, Croce Rossa e i tanti enti che cercano di dare una mano concreta a chi non ce la fa, stanno svolgendo al meglio il loro compito e, fortunatamente, nessuno resta indietro. La cosa che è maggiormente rattrista, spiega Milioni, è che la stragrande maggioranza delle persone che si rivolgono alla rete di solidarietà sono italiane, Civitavecchiesi in particolare. Per loro, la rete sta fornendo ogni tipo di aiuto, non solo quello riguardante la messa a disposizione di genere alimentari, ai quali, negli ultimi tempi, si sono aggiunte anche la frutta e la verdura, ma anche il pagamento delle bollette e, in qualche caso, dell'affitto di casa o della rata del mutuo. Insomma, grazie alla generosità di diverse aziende, al momento non c'è una vera e propria emergenza, anche se un aspetto preoccupa e non poco. La situazione, riprende la vice direttrice della Caritas Territoriale, potrebbe diventare davvero drammatica. Se verrà sospeso il blocco dei licenziamenti, se da qui a qualche mese alcune persone dovessero rimanere senza lavoro, allora sì che l'emergenza diventerebbe difficile da gestire. Enesimo report col sorriso per Civitavecchie sul fronte Covid-19. Nel consueto report dell'Asl Roma 4 e della Regione Lazio si legge che anche questa volta in città non ci sono nuovi casi positivi. Ci sono e sono tre i guariti delle ultime 24 ore. Mancano 300.000 somministrazioni al raggiungimento del traguardo dei 5 milioni. Ieri nel Lazio è stata raggiunta quota 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate ed è stata superata quella di 1,7 milioni di seconde dosi. Nell'ultima settimana sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. La campagna vaccinale procede quindi spedita secondo la programmazione. Basti considerare che nel Lazio il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale. Cominciano intanto a pervenire gli sms che informano dell'invio del certificato vaccinale. L'assessorato regionale e la sanità informa che per un mero errore tecnico sono state inviate delle certificazioni di avvenuta vaccinazione errate. Le certificazioni di avvenuta vaccinazione verranno rimandate correttamente nei prossimi giorni ed inserite nel fascicolo sanitario personale. Tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma Lazio Escape, accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Si tratta di un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite speed. Una strada al limite dell'agibilità è quella protagonista dell'appuntamento di oggi di Occhio sulla Città, con le telecamere che si sono spostate in via Domilani nella discesa che porta alla sede dell'Ater. L'asfalto presenta dei veri e propri crateri in più di un'occasione stato teatro di cadute, infortuni e deneggiamenti ad auto e motocicli. Vediamo. Qui siamo in una traversa di via Domilani e precisamente la traversa che porta alla sede dell'Ater. Questa è veramente una situazione che a dire grottesca è poco. Mi diceva il che è anche caduta una persona qualche giorno fa, appunto perché qui è veramente una cosa io sono senza parole perché qualche volta negli anni passati anche io sono passato in questa strada, su questa strada e sono dieci anni che è così, sono più di dieci anni, non è stata mai, mai, mai riparata, mai, mai fatto un intervento. Veramente è una cosa, io non so, incomprensibile. Molte persone ci hanno chiamato appunto perché è una situazione che ormai va avanti da molto tempo, non si riesce a passare. Facciamo un altro appello? La gentilezza senza accoglienza e rispetto rimane un puro esercizio retorico. Inizia così una nota stampa delle donne in difesa della legge 194 che si rivolgono all'assessore Cinzia Napoli dopo la notizia dell'inaugurazione imminente della panchina viola della gentilezza. L'associazione parla delle diverse iniziative dell'amministrazione che secondo loro vanno in contrasto con un gesto come quello della panchina viola. Ricordiamo le gesta spiegano le donne in difesa della legge 194 del sindaco che con la polizia locale sgomberano una panchina in cui aveva trovato un riposo, un senza tetto. Per non parlare del diniego della possibilità di installare una panchina arcobaleno o dei numerosi esponenti dell'amministrazione che hanno organizzato manifestazioni contro il DDL ZAN. Il Lions Club Civitavecchia Porto di Traiano ha partecipato all'importante attività di servizio raccolta occhiali coordinata dalla socio Lions Guglielmo Pepi. Grazie alla generosità dei cittadini ci sono stati donati 553 occhiali usati che sono stati spediti al centro italiano Lions raccolta occhiali. In tale sede gli occhiali vengono classificati e spediti ai punti di consegna tra cui ambulatori medici, carceri e paesi del terzo mondo. Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano rinnova l'invito ai cittadini che volessero contribuire a conferire i loro occhiali usati sia da adulti che da bambini purché sani, integri e anche da sole presso i seguenti punti di raccolta. Ottica di Luzio via Aurelia 535 Santa Marinella, ottica De Felici via Terme di Traiano 28, ottica Vergati in largo plebiscito 10, centroanziani di Civitavecchia. Passiamo alla pagina sportiva, un'occasione da non mancare quella che si trova davanti l'Enel Civitavecchia impegnata domani alle 15 a Salerno. Per la gara 2 della finale play out di fronte ai Rosso Celesti ci sarà la Rechi, sconfitto sabato scorso per 13 a 5 al Palagalli ed obbligato a vincere per evitare la retrocessione. Per la squadra di Marco Pagliarini invece è l'occasione per chiudere definitivamente i discorsi sulla salvezza e portare a termine una stagione ricca di difficoltà, ma ascoltiamo le impressioni del giovane Federico Iorio. Federico Iorio dopo gara 1, adesso ci sarà la gara 2, una sfida sicuramente importante in cui bisogna cercare di chiudere la pratica, tenere questa salvezza che attendete da tanto tempo. Sì, a Salerno sarà una partita difficile perché loro arriveranno che hanno preso una brutta sconfitta qua e quindi c'erano la voglia di rifarsi. Poi a Salerno sarà una bella partita perché a Salerno sono molto fisici e quindi andrà così. Cosa cambierà rispetto a gara 1? Che diciamo in questa partita ci siamo amalgamati bene, c'era intesa tra i giocatori, i passaggi, ci guardavamo negli occhi mentre giocavamo e così dovevo fare anche a Salerno. Poi abbiamo giocato bene l'uomo più, anche uomini pari e niente. Poi i play-off e i play-out sono così, questo ovviamente è un play-out, ogni tre giorni cambiano le cose, da una partita all'altra si può cambiare con lo scenario, però la differenza che si è vista in gara 1 è sicuramente di livello importante, significativo tra voi e la Leki. Sì, i play-out sono una partita secca, è un altro campionato, ogni partita è una partita a sé, per esempio questa gara 1 sarà completamente diversa da gara 2, perché loro si giocheranno tutto per tutto e lo faremo anche noi. Sale l'attesa per il match di Emiliano Marsili, venerdì il tizio sarà alla Marina per affrontare il belga Stéphane Jamoyer per la cintura del Mediterraneo IBO. L'incontro che potrà vedere la presenza massima di 400 spettatori a causa delle limitazioni legate al Covid sarà trasmesso in diretta da Gazzetta TV, ovvero la televisione web del popolare giornale sportivo Rosa. La riunione avrà inizio alle 20.30, ci saranno diversi combattimenti, prima di quello del pugile allenato da Mario Massai. Seconda tappa dell'Euro Tour con il sorriso per Tommaso Pampinella. Il paddlesurfer del circolo Canottieri e Aniene è andato sul lago di Thun in Svizzera per questa importante prova del circuito. 18 i chilometri di gara attraversando l'intero lago con vento leggero in un posto da sogno. Pampinella ha chiuso con l'undicesimo posto, ospirando la possibilità di entrare nella top 10. Sono felice per il risultato ottenuto, dichiara Tommaso Pampinella, e per aver rappresentato l'Italia nelle prime posizioni in una gara combattuta fino alla fine. Ed era l'ultima notizia, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordo prima di salutarvi di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it È davvero tutto, grazie per averci seguito e buona serata.